amici di Cusano Italia TV buonasera benvenuti a questa prima puntata di giallo d'estate parte infatti la nuova grande stagione estiva poi crimini e criminologia tornerà naturalmente a partire da settembre una nuova location nel teatro 1 di via Don Carlo Gnocchi 3 a Roma all'interno dell'università Niccolò Cusano ma con la regia di Lorenzo Rocchi andiamo subito a scoprire il titolo di questa puntata da dove partiamo? partiamo dal giallo di Ponza parliamo infatti dell'omicidio di Gianmarco Pozzi il campione di kickboxing ucciso a Ponza il 9 agosto 2020 all'età di soli 28 anni all'inizio si parlò di incidente di suicidio ma è chiaro che Gianmarco per tutti i gimi fu ucciso e ne parliamo con gli ospiti che vado a presentare in studio a partire da Martina Pozzi che è la sorella di Gianmarco buonasera salve e il papà di gimi Paolo Pozzi buonasera bentornato buonasera a tutti voi ne parlammo in una vecchia puntata di crimini e criminologia che trovate sul canale youtube di Cusano Italia TV e poi ci collegheremo anche con uno degli avvocati della famiglia Pozzi l'avvocato Marco Malara però andiamo subito a scoprire quelli che sono stati gli sviluppi più recenti a proposito di questo giallo infatti un reportage che ha realizzato la nostra inviata speciale Aurora Vena proprio sull'isola di Ponza sui luoghi del mistero sulla scena del crimine coadiuvata anche da Paolo Pozzi il montaggio è di Claudia Di Fonzo vediamo è una persona tranquilla anche se faceva quello sport non ha mai alzato le mani anzi si alzava forse per non aiutare qualcuno che stava in difficoltà ma di suo bastava gli occhi e lo sguardo per capire uno deve stare tranquilli poi dove con i sensi di colpa ha fatto l'uso di cocaina forse non ho capito qualche segnale che aveva dato eh questa battaglia sto facendo io la faccio solo per una cosa pianibilitare mio figlio che mio figlio non era un tossico faceva uso santuariamente sì l'ho scoperto ma deluso però da lì a ammazzarlo insomma ci passa un mondo intero no il problema grosso di Gianmarco è che sono state negate le prime 48 ore che ormai sono diventato quasi tecnico e le 48 ore sono determinati e lui non ce l'ha avuta e se non ce l'ha avuta c'è un nome e un cognome se interveniva il medico legale se ero vicino arrivava la scientifica arrivava qualcuno no gli è stato negato tutto ti ricordai che è il 9 agosto? è meglio non morire il 9 agosto? è meglio non morire d'estate eh l'estate no perché il problema c'è sta eh stai a Ponza blocchi l'isola che era il problema capito? perché mi fio dopo due ore e mezzo viene spostato? perché non recinta l'area? dico tra Ladina, Frosinone c'è sta il medico legale a disposizione non lo so stanno tutti in ferie non c'è adesso uno per legge che sta a disposizione della procura c'è l'area di soccorso e lei se vuole con un'ora è il medico legale che sta là non c'è stata la volontà appunto eh poi è un'isola talmente piccola che io mi estranisce il fatto che tu vedrai ci stanno sei carabinieri sei finanzieri poi ci stanno la finanza dei mari i carabinieri dei mari i vici urbani a Catania di Porto per 1800 abitanti ci saranno 30 persone indivise perché loro qui niente, non c'è la testa sotto la sabbia, nessuno che osa parlare no? che mi fermano, sai quello spaccio, lo spaccio, andate a dire i guardi e me lo dite però la cosa strana che mi dicono tutti Paolo non è che tu la vuoi venne taglia totalmente tanto che alla fine la venne c'era come io c'è l'antidità commerciale che va avanti a te così e l'antidità ci parla, aprono tre mesi poi, vanno ai Maldiva, vanno ai Seicello però la cosa che mi fa incazzarmi devo morire il mio figlio per scoprire che il pesce è stato condannato e ha 6 su 1800 abitanti ne hanno restati 8 in totale, 2 soldi in Roma e 6 soldi in punta e lei è fatta la domanda Vincenzo Pesce era il gestore del Blue Moon il locale dove Gianmarco lavorava come buttafuori nel periodo in cui è morto il 25 maggio 2022 viene arrestato dai carabinieri della compagnia di Formia perché ritenuto responsabile insieme ad altre 7 persone di detenzione e spaccio di stupefacenti a Roma, Napoli e appunto Ponza il 18-19 luglio stavamo a casa, gli telefona il proprietario del Blue Moon, Vincenzo Pesce gli dice che stai a fare niente? perché non vieni a Ponza? con l'anno che muore era il terzo anno che andavo a lavorare lì al locale ma gli altri due anni andavo a lavorare con la società di Roma che cura la sicurezza invece questa volta viene chiamato Pesce direttamente da Pesce e Gianmarco gli dice scusa ma è lui, di solito lui andava sempre tutto agosto faceva dal 2 al 27 e gli dice scusa ma mamma non c'è tantissimo da fare ma dice guarda vieni mi fai da bodyguard perché lui ha sempre pensato che questo Vincenzo Pesce era un imprenditore un breatore delle cose non si era mai accorto che di ero che c'era e come vieni a sapere di quello che è successo? mi chiama l'allenatore stavamo in Abruzzo a fare una sorpresa a mia moglie ero andato con mia figlia mi è arrivata la telefonata stavamo a tavola avevamo cominciato a pranzare l'una, l'una e mezza e mori con e mi dice perché dice che i rabiniere hanno chiamato lui ed hanno risalito da lui perché lui sul collo ce l'ha scritto Lucci Team e praticamente l'opera dice il 118 la smanetta sul telefonino e trova Lucci Team con il telefono e gli risponde l'allenatore di Gianmarco e gli dicono se poteva lui avvisare me dopo Umberto Lucci mi è arrivato a me e mi dicono che mio figlio è precipitato da da un terazzo di una stessa di 6-7 metri mia figlia va là e si accorge che sto circa 3 metri e Martina c'era un amico sui poliziotto diceva che tra lì sarà tutto recintato troverai che ne so qualcosa che hanno fatto delle attività si capirà che è successo qualcosa e lei chiamava a San Miguel e dice ma se c'è qui c'è niente non so se hai sentito come c'è niente non c'è niente e quella è la prima anomalia 6 agosto mio figlio viene a Roma viene al negozio e gli dico che stai a fare diceva ma se va in una macchina ma se va in una macchina e gli dico ma che stai a fare se stai a prendere la cocaina per vincere il suo pesce te lo dice chiaramente sì e tu? e io mi incazzo e per la prima volta vedo Alessio Alessio Lauteri era uno dei coinquilini di Gianmarco nell'appartamento a Ponza è lui che racconta agli inquirenti di un importante consumo di cocaina che avrebbe provocato in Jimmy una sorta di delirio psichico pomeriggio del 9 portano in caserma e l'altro coinquilino e fa una dichiarazione di 4-5 domande e ho mandato mia mi dicono 4 domande Alessio lo trattengono un'oretta che vorrà capire di chi era la cosa di Gianmarco Dago Gianmarco capito? per cui l'hanno detto un attimino così lui dice lui dice lui dice che 8 e mezza 9 non c'è l'acqua le discussioni per l'acqua non si può fare tu c'è la cosa per cui mi vio sei impazzito si può mettere a discutere perché non c'è l'acqua con l'altro coinquilino 9 e mezza dice che lui si mette seduto fuori dopo che si è fatto 3 grammi di cocaina dice che si mette seduto e chiude gli occhi e si è addornuta io l'idea che mi sono fatto è che lui per andare io te la devo dire ma io mi appara al culo a qualcuno è nato da qualche parte perché si sentiva io sono io non sei nessuno io penso questo ma io voglio una verità e non c'è da non essere contro prove che le possa attaccare o non attaccare è successo questo e io accetto tutto noi siamo ancora l'unice che mia moglie che lasciamo la finestra aperta al suicidio e penso che siamo l'unici capito perché noi quel 5% l'avevamo lasciato non è che l'ho abbandonato ma a modo che non ho spiegato a modo che non ho spiegato tecnicamente e perfettamente io voglio capire che cosa è successo ma anche a livello istituzionale non è che l'ho abbandonato Siamo andando davanti a casa di Gianmarco. Zona Santa Maria. Santa Maria. Condivideva con gli altri coinquilini che gli aveva trovato il titolare del Blue Mall. Siamo arrivati. 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 qui. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. qui. Siamo arrivati. Siamo arrivati. qui. 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 ha un importante traffico di droga. Sì. come tutti i posti turistici dal tunnel. è vero, sì. è così. cioè. La droga c'è. e non direi che ci nascondiamo dietro un dito. può succedere due giorni che non ce ne sia, ma la droga c'è. e c'è chi anche la controlla? Certo. Se io voglio comprare della coca so dove devo andare, lo posso capire facilmente Si capisce, basta chiedere già al primo locale, al primo corte bar dove posso comprare la canola stasera e domani già si sa, la posso trovare anche già dopo due ore Da dove arriva? Da Roma? Dalla Campania? Da entrambe? Gli ultimi anni che io sappia da Napoli, particolarmente zona Campania però so anche che dopo che è successo appunto il fatto di Gini sono scomparsi un po' tutti questi napoletani e ora si parla di Casamori, insomma di Gini ancora più forti di quelli che già c'erano prima Tutto quello che è venuto fuori ha fatto veramente un gran clamore sull'isola ha creato uno spaccato sull'isola, uno spaccato importante perché ha fatto emergere una realtà pesante, una realtà fatta di droga una realtà che comunque ha portato l'isola in un'ottica diversa quasi a farla diventare una scampia del tirreno Come si comportano le forze dell'ordine qua? Bella domanda questa Fortunatamente ancora c'è qualche forza dell'ordine che si possa salvare sul vestito Ci sono sempre gli stessi carabinieri, da sempre gli stessi anni Se tu ti fai fatti i tuoi, se tu non vedi, se tu sei un artoso, va tutto bene Anche sulla chiedere, magari si possono fermare con il voto E se tu ti fai fatti i tuoi così in maniera molto, diciamo, non diretta però sai che si riferisce a qualcosa, a qualcosa che tu hai chiesto, a qualcosa che tu hai visto Io credo che questa omertà sia anche, dunque, dalla semplice paura di una guardia, un carabiniere possa appunto ritorcersi contro anche su altre cose come dire, un semplice grotticino non ha accatastato Mia figlia lavora in nero, ho un pezzo di casa non ha accatastato Ora cerco di fatturare meno Quindi, diciamo, che questa omertà magari è dovuta anche da altri giri, non solo dalla droga Non conoscevi Gianmarco, ma hai conosciuto Paolo, il papà di Gianmarco Che idea ti sei fatto di quello che è successo? Di quello che è successo? Di quello che è successo è una situazione macabra, triste Triste in sé, come inizialmente si parlava di un discorso legato alla droga o ad altri possibili reati Non giustifica comunque un decesso Un omicidio io non lo giustifico nemmeno mai Non ci sono motivi per uccidere nessuno Ci potrebbero essere state delle situazioni di confronto con ambienti difficili Che magari possono aver esagerato in un loro imporsi e abbiano portato questo macabro evento Da come si comporta la malavita non è difficile pensare a un effetto periferico di un regolamento dei conti Mi sono fatto tantissime idee in questi tre anni Però non c'è mai nulla di concreto Cioè nel senso, anche se in questo da un'idea Poi non riesco a finire con l'idea fino alla fine Perché è possibile che veramente riescono a coprire I carabinieri vogliono coprire a quella persona Allora no, c'entrano i carabinieri Perché c'entra Jimmy con i carabinieri? Non c'è mai nulla di concreto Ho pensato a un apertenimento finito male Ho pensato a una serata tramici finita male Ma in realtà non penso poi di nulla Perché niente ha senso È una forte insensata questo Il reportage firmato Aurora Vena Avete visto protagonista anche Paolo Pozzi Il papà di Gianmarco Pozzi Che è qui in studio con noi Così come Martina La sorella di Jimmy Morto il 9 agosto del 2020 All'età di 28 anni Come avete sentito dal reportage Stanno emergendo degli elementi Che potrebbero portare a una svolta di questo giallo Il giallo di Ponza Del quale continuiamo a parlare tra poco Qui a Giallo d'estate E ben ritrovati da Fabio Camillacci Secondo capitolo di Giallo d'estate Il primo capitolo Se ne è andato con il bellissimo reportage Effettuato all'isola di Ponza Dalla nostra inviata speciale Aurora Vena Che è andata lì Sul luogo del mistero Sui luoghi del mistero Avete visto anche la scena del crimine Naturalmente il riferimento è al giallo Di Ponza Alla morte di Gianmarco Pozzi Morto il 9 agosto del 2020 In circostanze ancora oggi misteriose Ma inizialmente si era parlato di incidente Di suicidio Si era anche cominciato a ipotizzare La pista dell'omicidio Ma ora tanti elementi convergono Proprio sull'ipotesi omicidio Dopo il reportage Ne parliamo in studio Ricordo in studio Paolo Pozzi Il papà di Jimmy Gianmarco Pozzi Per tutti Jimmy Vedete anche La maglietta di Paolo Con l'hashtag Chissà parli Giustizia per Jimmy È importante ribadirlo Chissà parli E allora Ne approfitto anche per ricordare Che potete inviare i vostri messaggi SMS o Whatsapp Al numero che vedete in sovraimpressione 334-92-29-505 Riprendiamo questo hashtag Chissà parli Se qualcuno è all'ascolto di Giallo d'Estate E sa qualcosa Su come andarono realmente le cose A Ponza Quel 9 agosto Quella notte Lì Che portò poi Alla morte Di Jimmy Di Gianmarco Pozzi Può scriverci Al 334-92-29-505 In studio Sempre anche La sorella di Jimmy Martina Pozzi E in collegamento Come avevamo anticipato Uno dei legali Della famiglia Pozzi Ritroviamo anche lui Con piacere Dopo la puntata Del febbraio scorso L'avvocato Marco Malara Buonasera E benvenuto A Giallo d'Estate Buonasera a voi Anche se è un ritorno Per lei Ma quella era Crimini e criminologia E adesso Andiamo a ricordare I fatti salienti A beneficio di chi si fosse messo solo Ora in ascolto di Giallo d'Estate Ricordiamo Gianmarco Pozzi Aveva 28 anni Quando morì Come detto Il 9 agosto del 2020 Fu ritrovato all'interno Del giardino Di una villetta Dell'isola Con una profonda ferita Alla testa Quell'intercapedine Che vi abbiamo mostrato Nel reportage Queste invece Sono immagini Che riguardano Il vecchio Blue Moon Il Blue Moon Nella discoteca Visto che appunto Jimmy lavorava Per il proprietario Di quella discoteca Fu ritrovato Con questa profonda ferita Alla testa Scalzo in costume Con quella busta All'interno del costume E tanti altri oggetti Particolari Che fanno pensare A un richiamo Alla criminalità Ecco Secondo le prime ricostruzioni Dicevamo Si trattò Di un tragico incidente Una sfortunata Caduta Ma adesso Potrebbe esserci Una svolta Perché Gli investigatori Avrebbero trovato La prova Che dimostrerebbe L'omicidio Si tratta Di questa carriola Trovata in un campo Nei pressi del luogo Del ritrovamento Del ritrovamento Di Jimmy Coperta da sterpaglie Diversi mesi dopo Il fatto Qualcuno ha raccontato Di aver visto Trasportare Il corpo Di un uomo Avvolto da un telo nero A bordo di una carriola La notte Era quella Della morte Di Gianmarco Pozzi Ecco Su quel racconto Gli inquirenti Non hanno mai trovato Riscontri Fino a questi Recenti sviluppi Martina Pozzi Che non abbiamo Sentito Mentre Paolo L'abbiamo visto Protagonista Ecco lo rivediamo Nel reportage Di Aurora Vena Questi nuovi Sviluppi Come ho detto prima Ormai fanno Convergere L'ipotesi Che Jimmy Sia stato ucciso Diciamo che io Dubbi non ne ho mai avuti Oggi poi sono 35 mesi Che Gianmarco Non c'è più Trano quindi Fra un po' tre anni La mia domanda Che da quando Mio papà quella mattina Ci ha chiamato Della Carriola È stata sempre una Che tipo di perquisizione È stata fatta O che tipo di sopralluogo È stato fatto Quella mattina Perché è vero Che la Carriola È a distanza Di un centinaio Di metri 200 metri Da ritrovamento Del corpo di Gianmarco Però per me Questa è stata la conferma Che dall'inizio Questa cosa Volutamente A questo punto Non è stata trattata Con il giusto peso Perché Veramente Dopo tre anni Ritrovare una cosa del genere Vuol dire che comunque Quella mattina Su quel campo Quando hanno comunque Cercato e setacciato Le prove Non è stato fatto nulla Perché altrimenti Dove essere battuto tutto Ricordo che io Con papà Già all'incirco Un anno e mezzo fa Andammo sempre Con un'altra Un'altra persona E troviamo una scarpa Un adidas trainer Che abbiamo consegnato Ai carabinieri Quindi mi domando In tutto questo tempo Che cosa effettivamente Hanno fatto La mattina Del ritrovamento Della morte Di mio fratello Se non dire Di pulire con la varicchina Che questo Insomma Non se lo sono dimenticati Ecco Proprio questo Un punto che volevo Ribadire con te No? Gravissimo Molto Perché quello Ha cancellato Tante prove Io quando arrivavo Sono arrivata Sull'isola di Ponza Quella mattina Ero preparata Da un mio amico Che è in polizia E mi aveva detto Guarda Martina Non ti spaventare Perché comunque arriverai La zona sarà comunque Delimitata Perché secondo lui Sotto sequestro Dice dove è stato rinvenuto Il cadavere di tuo fratello Avrai dei segni per terra Perché comunque Vengono fatti Dei rilevamenti Io quando sono arrivata lì Il nulla Non c'era niente C'era il signore Che raccoglieva i pomodori Che mi ha confermato Che il carabiniere Il maresciallo Gli aveva detto Di pulire con la parecchina Perché il sangue Dava cattivo odore E la casa Non era stata messa Sotto sequestro Le persone che stavano Dentro la casa Ancora erano dentro Quella casa Quindi io mi domando Come sia possibile È stato veramente Un sogno Vivere quella giornata Un incubo però Sì Un sogno perché Veramente Non si può raccontare Quello che ho vissuto Quel giorno Era come se non fosse Successo nulla Ecco Questi sono già Alcuni punti Oscuri di questa Vicenda Di questo giallo D'estate Un vero e proprio Giallo d'estate 9 agosto 2020 Peraltro ricordo Che Crimine e criminologia La puntata La trasmissione Che parla Di storia del crimine E della criminologia Durante la stagione invernale Nacque proprio In quell'estate Del dramma Di Jimmy L'8 giugno Del 2020 Poi appunto Due mesi dopo Ci fu questo giallo Che abbiamo voluto Proprio far diventare Centrale Per questa prima puntata In questo 2023 Della nostra Stagione estiva Di giallo d'estate Andiamo adesso Dall'avvocato Marco Malara Perché ricordiamo La carriola ritrovata Non è che è stata ritrovata Chissà dove Si trovava A pochi metri Di distanza Dalla scena Del crimine Adesso i carabinieri Del RIS La analizzeranno Alla ricerca Del DNA Tanti si chiedono C'era davvero Lì il corpo Il cadavere Di Gianmarco Pozzi Sui manici Sono rimaste Impresse Le impronte Dei tre uomini Che il testimone Ha detto Di aver visto Ecco Avvocato Ora che speranze Ci sono Proprio in merito A questi sviluppi Beh Paolo Ha raccontato Ha spiegato Riportandosi A quello Che c'era Era Le indicazioni Date da Un testimone E fortunatamente E fortunosamente Paolo Qualche giorno fa Paolo Pozzi Andando Sull'isola Trova Questa carriola E' una cosa Molto strana Tutti quanti Noi Abbiamo avuto Molti dubbi Su questa cosa Cioè E' possibile Che Martina Ha detto Quasi 35 mesi Sono già 35 mesi E nessuno Ha mai trovato Un'indicazione Un elemento Così importante Così Come c'era stato detto Da un testimone Cioè Non è che è stato È stato ritrovato Proprio quello Che un testimone Che un testimone Ci aveva detto Cioè Andate a cercare Una carriola Questa è una cosa Molto importante Per noi Per l'attività D'indagine Perché Dà Grossa attendibilità Chissà parli Chissà parli Che dice Paolo Che quello Che noi Invochiamo Che Paolo Invoca E tutta la famiglia Invoca È proprio Quello di Sensibilizzare La massa E la gente Che abita Chissà Veramente Per cercare Di dare Un volto A chi Ha strappato Gianmarco E i propri familiari Adesso Che cosa succederà Sì Così come Giustamente È stato detto Con elevata Probabilità Verranno fatti Gli accertamenti Su Questa carriola E così Cercheremo Anche un attimo Di capire Se effettivamente Sia L'ultimo Posto Triste Posto Che ha visto Il corpo Di Gianmarco Trasportato E quindi Per dare valenza A quello Che è stato Detto Da questo Testimone Quello che A noi È stato Riferito Diverso Tempo fa Più di un anno fa Quindi Il ritrovamento Della Carriola Per noi È un elemento Di svolta Molto importante Certamente Tanto Continuano Ad arrivare Messaggi Al 334 92 29 505 Ricordo Che la Redazione Seleziona Quelli Più significativi Soprattutto Più televisivi Che si possono Leggere In tv Ne stanno Arrivando Tanti Soprattutto Di solidarietà Nei confronti Di Paolo Di Paolo E di Martina Ma di tutta La famiglia Di Jimmy Di Gianmarco Pozzi Me ne hanno girato Uno significativo Molto polemico Vergognoso Che si parli Di una carriola Da due anni E il padre La trovi E deve fare Lui L'investigatore Al posto Delle persone Addette all'indagine Paolo E' proprio questo Il punto Che fa più male Forse Si guarda Però Parecchi mi hanno scritto E mi dicono Questo che hai detto Tu adesso Non si è firmato Ecco prego Tutti coloro Che scrivono Di scrivere Il vostro nome Di battesimo Basta quello E magari Anche la località Da dove ci seguite Perché noi andiamo in onda In tutta Italia Prego Paolo Scusate Però Sono contento Di averla trovata io Perché Io sono sicuro Che mio figlio Me l'ha fatta trovare Per cui Ce so Le critiche Le cose Va tutto bene Però io In questo momento Quando ho trovato la carriola Ho pensato Ovviamente l'ho trovata Poi Ho trovato la carriola Giusta Non lo so Però l'ho trovata Grazie a lui Perché se non mi fermavo là Ci sarò passato 150 volte E non l'ho mai notata Questa volta l'ho notata E io sono sicuro Che è stato lui A indicarmi questa cosa Per cui È vero Quello che dici tu Che mi dicono tanti Ma che indagina Io In quel momento Sono stato felice Di averla trovata Poi È tutto vero Quello che dite Che ti scrivono E mi scrivono anche a me Però io spero tanto Che quella carriola Sia la svolta Punto Peraltro è Francesco Da Roma Che poi ha Continuato ovviamente A scriverci Mettendo anche il nome Di Battesime Da dove ci segue Così come avevo Richiesto Però ecco Questa è una cosa Che a me ha molto colpito Perché quando ci siamo sentiti Con Paolo Per organizzare Questa puntata Di giallo d'estate Mi ha detto Che lui va spesso A Ponza Quindi tu Questo ruolo Tra virgolette Di investigatore Lo fai Praticamente Da quando è successo Quel dramma Sì Io ci vado spesso Perché innanzitutto Vado a respirare L'aria che respirava Lui E in particolare Il 29 giugno Che San Piatra e Paolo Erano massico mio Ho deciso Che finché campero Vado a Ponza E in più Sono andato altre volte Per fare Dei rilievi Delle cose Che ci chiedono I nostri feriti Delle foto Per cui Ci vado Con la speranza Che qualcuno Un giorno mi fermi Mi dice Se il Pozzo Io anche a qua Gli dico una cosa Ancora non è successo Però Prima o poi accadrà Sono sicuro E poi hai conosciuto Anche tanta Gente C'è tanta gente Che ci vuole bene Devo dire Abbiamo visto anche alcuni Chi ovviamente Ha preferito Mantenere l'anonimato Certo E altri invece Che ci hanno messo la faccia Per parlarci un po' Di quello che accade L'estate A Ponza E quindi andando spesso E il ritrovamento È avvenuto il 29 giugno 29 giugno Sì Quindi Veramente Proprio nel giorno Dei padroni Di Roma San Pietro e Paolo Sono cose Un po' così Lontane Ma Come dici tu Forse è stato Davvero Gimmi A fartela trovare E l'auspicio È che sia Quella giusta Però rimane sempre Martina Questo aspetto Che è inquietante E fa pensare Sono tre anni La carriola Considerazione minimamente Il racconto Perché comunque Non c'era riscontro oggettivo Di questa fantomatica carriola Ma neanche c'è stata La volontà di trovarla Perché penso Che se la troviamo E la trova mio padre A distanza di Tre anni Sullo stesso campo Le mie domande Diventano enormi Ma io ho tantissime domande Eccola È questa Bravo Lorenzo Rocchi Che ha ritrovato Nell'ampio reportage Di Aurora Vena Proprio l'immagine Proprio l'immagine Della carriola Avvocato Prego Paolo Il consiglio è Qua carriola In quel momento Io l'avevo presa Con la maglietta Del mio amico E l'avevo trascinata fuori Dai rovi Perché noi ci sono Altre foto Che sta dentro I rovi Proprio Tutto qua Risalire Perché sta lì Da tanto tempo Adesso Le intemperie E tutto Bisogna vedere Che impronte Si possono ritrovare Eh sì Siamo Siamo in mano Ancora una volta La magistratura E vedremo Cosa Cosa si riuscirà A trovare Certo Faranno sicuramente Un accertamento Irripetibile Sulla Sulla carriola Su tutto quello Che è stato trovato E cercheremo Anche di capire Casomai Ci sarà La riconducibilità Al DNA Di Gianmarco E dobbiamo solamente Aspettare È un fatto Del Di qualche giorno fa Quindi Aspetteremo notizie A breve Da parte della procura Vi devono ancora Far sapere Invece No So che ci sono Anche accertamenti In corso A proposito Di quel sacchetto Di tutta quella cosa Strana Che è stata trovata Nello slip Di Di Jimmy No Ancora non abbiamo Un faccio letto Con una traccia di sangue Sentiamo prima Nel servizio Diciamo che La questione Sull'accertamento Tecnico Irripetibile È Facoltà del Pubblico Ministero Di dare Informazioni Alla Alla Persona Offesa Che in Determinate Situazioni Quindi è una Facoltà Del pubblico Ministero Di Notiziare La persona Offesa Perché il nostro Codice Prevede che In caso di Accertamento Tecnico Irripetibile Venga Essenzialmente Notiziato L'indagato E il difensore Qualora ci sia Il tempo Però La magistratura Sta facendo Il suo corso Ma questo è Una novità Importantissima Proprio perché In riscontro A quella che è stata La testimonianza Di quel soggetto Che è andato Dal pubblico Ministero Insomma Dagli inquirenti E dire Guardate ho visto Così come raccontava Paolo Nel servizio Ho visto Gianmarco Ho visto O meglio ancora Ho visto un corpo Penzoloni Dalla Carriola Ecco Soprattutto Quello che dice È importante Aggiungere Sempre elementi Nuovi Per evitare No? Che si arrivi All'archiviazione Per tenere viva L'attenzione E viva la pista Nel senso No? Avvocato Questo Ecco perché è importante Perché altrimenti Se non hanno nulla in mano E nessuno parla C'è questo rischio Quindi Benvenga Questo ritrovamento La campagna Di sensibilizzazione Che Paolo Tutti quanti noi facciamo Con il chissà parli Non è Fuori senso E fuori misura Perché Passati quasi tre anni Dalla morte di Gianmarco L'unica Nostra speranza Oltre Insomma Nel lavoro Della magistratura Con le opportune Dovute critiche Legate Soprattutto Al trascorrere Del tempo E che ci sia La popolazione Dell'isola Che aiuti Noi La famiglia Insomma Tutti quanti A trovare Giustizia Ecco perché Ecco perché Chi sa parli Ecco perché Giustizia De Gianmarco A proposito Poi ecco Per dare Ulteriori elementi Ai telespettatori Le ricostruzioni Del medico legale Leggo Proprio da Un organo Di stampa Che ha riportato La notizia Del ritrovamento Di questa Carriola Sottolinea Ricorda Gianmarco Pozzi Sarebbe caduto Da un'altezza Di 2,70 metri E questo Giustificherebbe Le lesioni Trovate sul corpo Ma Come si spiegano Si chiede Questo Collega Le ferite Sulla parte Sinistra Del corpo Dato che Sarebbe caduto Sul fianco Destro E quel lato Non dovrebbe Aver toccato Nulla Eppure Ha tutte le ossa Rotte E ecco perché Pensiamo sia stato Aggredito Questo è un virgolettato Dell'altro Avvocato Fabrizio Gallo Se non ricordo male il nome Oltre all'avvocato Marco Malara E poi È stato Sottolineato Sul corpo Tagli Contusioni Il segno Di una corda Stretta Intorno alla vita Ferite compatibili Con un'aggressione In piena Regola Martina Pozzi Ha detto subito Io non ho mai Avuto dubbi La tua sensazione Da dove nacque Fin dall'inizio Martina Al di là del Distinto Da sorella Del sangue Diciamo Dal fatto che Comunque avessero detto A mio padre Che Gianmarco Era precipitato Da un balcone Alto 7 metri Perché Gianmarco Soffriva di vertigini Quindi non si affasciava Neanche alla finestra Del primo piano E quella cosa Mi è sembrata strana Mi è sembrata strana Perché poi la sera prima Con mio fratello Intorno all'una di notte Ho avuto una videochiamata E non Era Gianmarco Di sempre Quindi ho tutti i racconti Poi fatti Ma ricordo Che i racconti fatti Sono sempre inerenti A due o tre personaggi Della camera Che erano Sotto dichiarazioni loro Nello stesso stato Di mio fratello Quindi io mi domando Le autorità Che hanno sentito Queste persone Nell'imminente Non hanno Non si sono resi conto Che parlavano Con delle persone Sotto effetto Di sostanze stupefacenti Che il loro racconto Non poteva essere Reale O comunque Andava accertato Io ho letto Allegato Alla perizia Del medico legale Che ci ha consegnato Dopo otto mesi Cosa che invece Solitamente Dopo una settimana Un'ispezione Caterica Viene data Hanno fatto tre domande Quant'è che non vedevi Gianmarco Quando è che l'hai visto L'ultima volta Cioè domande molto Sintetiche Nessuno è stato Comunque trattenuto Addirittura Dopo tre ore Alessio già dormiva Quindi è stato dato Credito a racconto Di delle persone Che convivevano con lui Che in quel momento Hanno dichiarato Di essere sotto effetto Di sostanze stupefacenti Quindi mi domando Come hanno fatto A dare la valenza A queste persone Persone che poi Se non ricordo male Sono finite Nei guai Per il traffico Di droga Sono finite Nei guai Il traffico di droga Che appena successo Il fatto ovviamente Faceva comodo Che Gianmarco Non si potrebbe più difendere Hanno scaricato Tutte le responsabilità Su di lui Tanti elementi Che secondo me Già a principio Dovevano far pensare Dichiarano che non c'è l'acqua Eppure Alessio poi dirà Che Gianmarco Ha buttato la cocaina E tirato lo sciacquone Mi domando Che se non c'è l'acqua Come la tira Una persona Che si addormenta Di punto in bianco E racconta Ha dato delle versioni Talmente tanto differenti E talmente tante Che ad oggi Una persona così Non è credibile Andrebbe veramente Rivisto tutto a monte Quindi Tante incongruenze Troppe cose Che non tornano Continuiamo A parlarne Tra poco Perché dobbiamo dare la linea Alla regia A Lorenzo Rocchi Alessio Zancorra Alla regia centrale Però Restate con noi Torniamo Tra poco Ancora con Paolo e Martina Pozzi Dell'Avvocato Malara Per parlare del giallo Di Ponza A tra pochissimo Ben ritrovati da Fabio Camillacci A giallo d'estate Continuiamo a parlare Del giallo di Ponza La morte Di Gianmarco Pozzi 28 anni Ucciso Ora lo possiamo dire Il 9 agosto 2020 Dico bene Avvocato Si può usare Ti ricorda Quando Facciamo la precedente puntata Già Comunque avevamo L'idea Che si trattasse Di omicidio Però ora Ancor più tasselli Si stanno Mettendo insieme Eh sì Assolutamente sì Quindi Come già detto Dobbiamo aspettare E fare tutte le opportune Valutazioni Concrete Su quello che è Stato finora Raccolto Dal punto di vista L'indagine Il codice Di procedura Non ci permette Di essere parte Parti attiva Nell'attività Di indagine E Paolo La famiglia Lo hanno fatto Lo stanno facendo Lo stiamo facendo Anche noi Come Come difensori Cercando Di andare a parlare Sempre con il pubblico Ministero Di essere sempre Presenti Di porre All'attenzione Tutti quelli Che sono i nostri Dubbi Sull'attività Di indagine Portando Gli elementi Che siamo riusciti A raccogliere Anche da persone Esterne Insomma Esterne E ritrovate A Ponza Paolo Il ritrovamento Di Paolo Di qualche giorno fa È stata una cosa Assolutamente Fondamentale C'è proprio Il riscontro Di quello che Già tanto tempo fa Tanti mesi prima Era stato detto Quindi Noi abbiamo Le migliori speranze Affinché Si arrivi Ad avere La giustizia Per Gianmarco Riparto Dopo aver sentito L'avvocato Malara Uno dei legali Ricordo Della famiglia Di Gianmarco Pozzi Riparto dal papà Di Jimmy Paolo Pozzi Per tornare Sul discorso Del ritrovamento Di quella carriola Abbiamo detto Il 29 giugno scorso È avvenuto il ritrovamento Ma Non era la prima volta Che cercavi Quel reperto No perché Quando è uscita Questa storia Della carriola Da parte di questo Testimone Io mi sono regato Due bar a tre Weekend A Ponza E ho cercato A destra Manca Sopra Sotto Da per tutto Ma non ho mai pensato Sul luogo Di ritrovamento Non lo so perché Però ho girato Ho messo a suo quadro Insomma Da tutte le parti E non l'ho trovato Adesso sono Proprio di una cosa Il pubblico ministero Attuale Il dottor Flavio Ricci Che abbiamo incontrato Io e Martina Io mi auguro Che lui La carriola sia La parte finale Di tutto Una serie di attività Di indagini Che ha compiuto Che ha fatto Celle telefoniche Intercettazioni E RIS E quant'altro Per cui La carriola sia Diciamo La parte finale Di tutte le attività Che ha fatto Per chiudere il cerchio Io mi auguro Questo qua E me lo auguro Intensamente A circa 150 metri È stato scritto Dalla Stata 144 Ecco Esattamente Proprio Ha misurato Anche No no Hanno misurato Gli inquirenti Che stavano Gli inquirenti Hanno misurato Insieme a Paolo La procura di Cassino No? Se ne sta occupando Ricordiamolo Perché appunto Per competenze Adesso volevo però Entrare nel merito Di un altro aspetto Che può valorare Ulteriormente Appunto L'ipotesi Dell'omicidio Ne parlo con Martina Perché poi Molte persone coinvolte Ha avuto modo Anche di conoscerle E molti organi di informazione Molti giornali Noi stessi La volta scorsa Parlammo proprio Di questo fatto Di cronaca Che potrebbe Intrecciarsi Con quelle che erano Le indagini Su un giro di droga Sull'isola di Ponza Si parlava di droga Di cocaina In particolare Nel servizio Nel reportage Di Aurora Le persone che ha Intervistato Dicevano Proprio Questo Alcune persone Coinvolte nel traffico E spaccio Di stupefacenti Conoscevano molto bene Gianmarco E il suo nome E i loro nomi Appaiono Tra l'altro Compaiono Anche in molte Intercettazioni A volte Poteva sembrare Un sospetto In passato Adesso però Uno più uno Fa due In questo senso Nel senso che Potrebbe esserci Un giro di droga Qualcosa che Gianmarco Non avrebbe Devuto vedere Anche questi messaggi Subliminali Subliminali Con il ritrovamento Negli slip Della vittima Di queste strane No Mozzicone di sigaretta E bustine di cocaina Vuote Fa pensare Che ci possa essere Dietro Qualcuno Della criminalità Organizzata A questo punto Legato anche I personaggi Presunti amici Di Jimmy E datore di lavoro In quella fase Guarda Questo Non lo so Nello specifico Certo è Che mio fratello A Roma Non faceva questo Di lavoro Non l'ha mai fatto Altrimenti Il butta fuori Però Ne precisiamo No no Parlo Quello che è stato scritto Lo spacciatore Di Ponza Perché ai primi tempi Ricordiamo che l'hanno fatto Pastralipo Pablo Escobar Questo è stato La prima I primi articoli usciti Sicuramente ad oggi Abbiamo una certezza Che se Gianmarco Fosse ancora vivo Avrebbe pagato Perché comunque era All'interno di alcune Intercettazioni Insieme ad Alessio Insieme ad altri Quindi Per noi sarebbe stato Forse un bene così C'è sicuramente Qualcosa sull'isola Qualcosa che Nessuno ha mai raccontato Ma che c'è sempre stato Lo sentiamo anche Delle testimonianze Cioè far finta Che in quell'isola Non ci fosse Uno spaccio Di sostanze Superfacenti È assurdo Anche solo pensarlo Sicuramente Mio fratello In quel contesto Come ha detto Prima mio padre L'abbiamo saputo Noi Recentemente Che Gianmarco Voteva far uso Ma non era una persona Comunque che a Roma A differenza magari Di persone che sono state Poi arrestate recentemente Hanno continuato A svolgere curatività Gianmarco a Roma Faceva il butta fuori Nei locali E ha sempre fatto quello Non ha mai avuto Precedenti penali Perché noi hanno anche detto Che Gianmarco Era stato arrestato Gianmarco Mai ha avuto un problema Sicuramente Ripeto Quell'estate Qualcosa è successo Se Gianmarco Era coinvolto Forse E sicuramente Per il suo essere Troppo buono E troppo ingenuo Gianmarco Non sapeva riconoscere Le persone buone Lo ha detto prima papà Gianmarco idealizzava Vincenzo Pesce Un grande imprenditore E il tempo poi Ci ha rivelato realmente Chi è Questo grande imprenditore Nascondeva tanti Scredi nell'armadio E ha chiamato mio fratello Per fare la sicurezza personale Quindi se tu non hai timore Per te stesso Non chiami un ragazzo Di 28 anni A farti Diciamo da bodyguard Quindi credo Che mio fratello Sia Diciamo così La vittima Di tutto questo meccanismo Poi quanto sia grande Cosa c'è sull'isola di Ponza Non sta a me definirlo Sono gli inquirenti Penso che in questi anni Si è uscito tanto Su quello che gira Sull'isola di Ponza E adesso aspetteremo Intanto Viviana Da Alghero È palese Scrive che Jimmy si è stato ucciso Così come la collusione Tra i poteri forti Ma la cosa più vergognosa È l'omertà Della gente Del posto Un silenzio assordante Che rende Chissà Complice E colpevole Quanto i suoi Carnefici Un forte abbraccio Alla famiglia Grazie Grazie a Viviana Che ci scrive Da Alghero Paolo Tanta solidarietà Da parte Di tanta gente comune A Ponza È cambiato qualcosa A proposito dell'omertà C'è più collaborazione O quella persona Che ha parlato Di un uomo Visto sulla carriola Probabilmente senza vita Rimane così Un'eccezione Io L'appello che ho sempre fatto Agli isolani di Ponza E a chi stava in vacanza là Ne ho fatti talmente tanti Che sono stanco Mi accorgo che Non vengono raccolte I miei gridi La mia sofferenza Il fatto di essere una vittima Non sono stati mai raccolti Per cui Ultimamente ho deciso Di dare La mia fiducia Al pubblico mistero Il dottor Flavio Ricci Perché? Perché è facile Perché lui potrebbe risolvere Tutto quanto Perché collaborazione Sull'isola Sul fatto di Gianmarco Tante pacche sulle spalle Però poi Alla fin fine Nessuno si è esposto Per dare un briciolo Un qualcosa Ho chiesto a tutti Potete scrivere lettere anonime Dando un dettaglio Un particolare No lettere così Senza contenuti Non c'è bisogno Della firma L'importante è dare Un dettaglio Un'indicazione precisa Che gli inquiretti Ci possono lavorare Non è mai avvenuto Ecco auguriamoci Come dice giustamente Paolo Che quello che non è stato Fatto prima Possa essere fatto adesso Grazie appunto No? Al lavoro di questo Pubblico ministero Vedi Vedi una grande partecipazione Una Più partecipazione Rispetto a prima Sì Più professionalità Magari Più Non possiamo dire Questo non lo so Però dal lato umano Veramente Volontà È una persona splendida Diciamo Ecco Martina credo sia d'accordo Come investigatore Non lo so Sì È una persona sicuramente Che sta facendo tutto Quello che andava fatto Sul caso di mio fratello Quello che non è stato fatto prima Sì ovviamente Quindi lui ha ricominciato da capo Quindi partiamo quasi Con un anno di ritardo Però non ha poi Tralasciato nulla Sicuramente i tempi sono lunghi Ma credo siano tempi lunghi Per tutti Quello che diceva Prima papà di Ponza È vero Tante persone hanno parlato Con noi direttamente Hanno raccontato anche delle cose Però poi quando sono stati Ascoltati Il riscontro Non è stato lo stesso Sicuramente sull'isola C'è un'area di tipo Aura Io li capisco anche Sai D'estate diventi Trentamila persone D'inverno siamo sempre Quei cinquanta Sessanta Che magari Con quel tipo di contesto E quel tipo di persone Ci devono vivere Quindi poi è difficile Relazionarti E quindi preferiscono tacere Però noi dobbiamo Non solo Dobbiamo Non solo per mio fratello Ma proprio per la nostra Per il nostro vivere Raccontare quello che sappiamo Perché è un diritto di tutti Ripeto Gianmarco era mio fratello Ma domani potrebbe toccare a me Potrebbe toccare a tutti Perché Questo è quello che è successo E arriveremo alla verità Secondo me Oltre magari agli elementi Come la cariola Anche con Con la coscienza di qualcuno Che sa Perché Ponza Io ci sono stata Prima di papà Quando arrivavo Da dietro le tappi Le persiane La gente La gente ti guarda Ti osserva Quindi io sono certa Che lì c'è qualcuno Che ha visto tutto quanto Di questo sono sicura La paura però Poi fa da padrona Dovrebbero ragionare Che uno ragiona sempre Che non tocca mai noi Quante volte abbiamo Una notizia Ciporello Però tanto a me Non succederà E invece purtroppo È successo a noi E potrebbe Noi succedere a loro E devono capire Questo meccanismo Avvocato La volta scorsa Ci parlò Di varie indagini Anche a proposito Del filone Di indagine Relativo Alla Alla droga Sono sempre separati Due filoni Cioè si indaga Per capire Sì sì Assolutamente sì Ovviamente Noi non abbiamo Cognizione Di quel processo Non sappiamo Come sia Come sia andato Tranne Quello che abbiamo Appreso dagli organi Di stampa Perché ovviamente La famiglia Non fa parte Di quel Di quel procedimento Il nostro È un procedimento Che Che va da sé Si regge in piedi Perfettamente Insomma Beneficiamo Di altri Tipi di notizie Dagli altri Procedimenti Che sono aperti Per Per capire Un attimo Come è andata Tutta la situazione Però I due processi Sono assolutamente Distinti Però Le persone coinvolte Cioè Amici Di Di Jimmy Presunti tali Comunque Sono stati mai sentiti Su quanto avvenuto Hanno sempre negato Che sia Successo qualcosa Comunque Hanno sempre coperto Eventualmente qualcuno Noi su questo Io non le posso dare Una risposta Perché Non abbiamo avuto Così come dicevamo Prima Un accesso Diretto Al fascicolo Abbiamo delle notizie Indirette Perché Sono state Riportate Nell'esame Che è stato fatto Sull'esame esterno Quindi sempre Il problema Che avevamo già Affrontato A febbraio Cioè Il fatto Che non sia Stata disposta L'autopsia Sul corpo Ma solamente Un esame esterno Nelle premesse Di quell'esame esterno Abbiamo Gli stralci Delle sit Cioè Di sommare informazioni Testimoniali Che sono state Diciamo così Apprese Da parte Dei carabinieri L'imminenza Del fatto Quindi abbiamo Semplicemente Uno straccio Di quello Che sono Le sit Generali Che noi Ovviamente Oggi Non possiamo avere Quindi abbiamo Una sorta così Di riassunto Di ciò Che abbiamo Nelle premesse Dell'esame esterno Della Salma Ho fatto questa domanda Perché è chiaro Che Certe persone Sanno Evidentemente Non parlano Per Per timore Al di là Di quello che era Il movimento E lo spaccio Sull'isola Peraltro Martina Il Blue Moon Non esiste più Cosa c'è adesso? Allora Credo che quest'anno Non ci sia più il Blue Moon Non ha più riaperto Anche l'anno scorso Si chiamava in un altro modo Ma lui lo gestiva Pesce Il Blue Moon O era proprio Il suo Il locale Allora Diciamo Il locale Inizialmente Il Blue Moon Credo che lui Avesse una quota Era comunque socio Insieme ad un'altra persona Sì Però il fatto Che non ci sia più Anche questa cosa È abbastanza strana Sì non c'è più L'anno scorso Era sotto forma Di un altro nome Lui comunque andava Non so sotto quale Sotto quale aspetto Però Sì Da quando è morto Già Marco Poi il Blue Moon È stato chiuso Cioè non ha più riaperto E quando siete andati E quando siete andati Ecco recentemente Non so se siete passati Che c'è adesso lì C'è sempre un locale C'è sempre un locale Sì un locale Di dimensioni più piccoli Si chiama Non mi ricordo Vabbè Però non Non è importante Però c'è sempre un locale Lui non ci sta più Una discoteca Diciamo C'è sempre Pub Aperitivo Sì un po' De musica Però Ho chiesto Lui non fa parte Di questo locale Non ci sta Diciamo Almeno Poi non c'è la camera De commercio E cose varie No vabbè Era solo per curiosità Visivamente mi dicono Così come un'altra curiosità In base a quello Che hai dichiarato Al microfono di Aurora Vena Nel ricordo drammatico Di comunque Quando anche ti deluse Jimmy No Dicendoti che Era venuto a Roma Sì A fare da corriere Per pesce Sì Quello che mi chiedo io Se effettivamente C'era Un giro di spaccio Sull'isola Che bisogno c'era No Di Incaricare Jimmy Di questo Te lo sei mai chiesto Sì sì Cioè a uno come quello Non sarebbe mancata Non l'ho chiesto Perché ho fatto Indagini Parallele Sono stato da personaggi Particolari I quali ci fanno Dovano prendere i soldi Da signor pesce E ci dicono Quella persona Da quello scoglio Non esce mai Perché lo stiamo aspettando Ah ecco Due persone Pesanti Quindi mandava Mandava Gianmarco Eh cercava Capito Invece di dargli Accituata I soldi Cercava Non so In gergo A mandare a prendere Da terze persone Perché lui da Ponza Non si muove E Martina Invece Prendendo spunto Da Viviana Dal Ghero Sardegna Salutiamo tutti Gli amici Che ci seguono Dalla Sardegna Beati loro Magari In questi giorni Si stanno godendo Le meraviglie Della Sardegna Faceva riferimento Addirittura Ai poteri forti Eh Perché poi La gente Comunque si fa Ognuno si fa La propria idea No Che vuol dire questo Che Ci può essere In qualche modo Io do una mia Opinione personale Che rimane tale Io la penso Come lei Sicuramente Per me Qualcosa Non ha funzionato E c'è Qualcosa di molto Più grande Che non ha fatto Funzionare Tutta La macchina Delle prime 48 ore Ora Per volontà Per negligenza Per inesperienza Però Non mi capaci Io so Perché papà Insomma L'abbiamo parlato Che hanno un protocollo Anche i carabinieri Comunque le forze L'ordine Da seguire Quel protocollo Su mio fratello Non è stato Applicato Mai Cioè Tu non sei in grado Di intervenire Su una scena Comunque di un crimine O comunque di una Morta violenza Mettiamo come C'è mio papà Che mio fratello Si sia ammazzato Ma tu trovi Un corpo di un ragazzo Di 28 anni In quel posto In quelle condizioni Non fai intervenire Un medico legale Un'ambulanza E non fai un rilievo Evidentemente Ti rendi conto E secondo me Se ne sono resi conto Che non erano in grado Di gestirla E non hanno chiamato I reparti Competenti Perché lì Poteva intervenire La scientifica O comunque Qualcuno Che stava a gestire Quel tipo di situazione Loro sono Secondo me Sono trovati Voglio credere Che si sono trovati Impreparati In preparazione Non lo so Perché poi penso Se era così impreparato Però ha fatto pulire il sangue Quindi dove esserlo Su tutto Impreparato Invece era preparato Su quello che poteva Portare il giovamento Verso una strada Impreparato sull'altra Sarai curiosa Di leggere i fogli Della perquisizione a casa Sono sincera Se è stata fatta Perché ci sono tante cose Appunto Che lasciano Perché anche se Verrà scritto Che c'è Che l'hanno fatta Io sono andata 12 ore dopo E dentro quella casa C'era tutto Non avevano sequestrato I vestiti di mio fratello Non hanno sequestrato nulla Se tu perquisisci Credo che qualcosa Devi anche sequestrare Soprattutto quello Che era inerente a mio fratello Lì era tutto normale Quindi troverò magari Scritto anche Che l'hanno fatta Bisogna vedere come E c'è anche Un giallo nel giallo Legato al proprietario Della casa Dove c'è Quell'intercapedine Dove è precipitato Cioè se analizziamo Tutto dal principio Perché quello Quel proprietario Ha detto Cose un po' Lo dichiara lui Di essere sordo Certificato Ok quindi lui lo dichiara Poi però parla di tonfo Poi magicamente Non sente nulla E sente questo tonfo Dice che Chiama la moglie Per andare a vedere Quale è successo Vedono mio fratello Che a dir loro Ancora si muoveva Quindi respirava Lui preso dal panico Prima di chiamare il 118 Scorrazzava da una parte all'altra Cercando qualcuno A cui chiedere aiuto O la rio mi domando Mio fratello L'ambulanza interviene Sei minuti dopo la caduta Io ho parlato Guarda il mio grande rimpianto Sai qual è? Che io ho contattato Il medico dell'ambulanza Il dottor Piecari Che purtroppo Anche questo Voglio pensare Che sia una morte normale Dopo un mese e mezzo Di una morte inferiore L'è morto a 38 anni E diventava papà dopo poco Lui mi disse Di morte naturale Cause naturali Occidente Dicono da covid Diciamo che Però lui Quando lo contattai Mi disse Martina tuo fratello Quando siamo arrivati Era 6 minuti dopo La chiamata presunta Quindi da quando lui Ha sentito il botto Era caduto Ma io ho detto Gio Marco Era nero cionotico Non sembrava italiano Aveva già comunque Gli arti completamente rigidi Quindi la rigidità Non avviene Nei 6 minuti Avviene dopo un paio d'ore E lui mi disse Queste parole Che ancora ho sul telefono Noi dobbiamo incontrarci Di persone e parlare Io non l'ho fatto in tempo Però ho parlato Con quelli dell'ambulanza Che tutti E dico tutti Hanno sostenuto all'inizio Che il racconto Che era stato fatto Cioè che lui si fosse buttato Era un po' difficile da credere Mio fratello Ha completamente Lo scalpo sulla testa E io penso Che se tu cadi Di testa A un'altezza di 2,70 La testa si rompe Non c'è uno scalpo Soprattutto se sei Nelle condizioni In cui è stato detto Esatto C'è un intercapendine Larga 80 cm Toccati Non ha minimamente Scoriazioni È come se fosse stato Depositato lì Buttato Perché lui non ha proprio Toccato i muri Non c'è uno schizzo di sangue Cioè Gianmarco Ha un danno importante Alla testa Sui muri bianchi E non c'è una traccia Di sangue Tant'è che la ragazza Del 118 Mi dice Martina io ho trovato Ho cercato questo punto D'impatto dalla botta Dice non c'era Però ci sono dei segni Di trascinamento pure Gianmarco è pieno Di spinitiato la schiena Quindi a meno che non si sia Rotolato Trascinato Da solo È un po' improbabile È fratturato Destra-sinistra Bacino Gamba Braccio Quindi se io cado a destra Mi domando la parte sinistra Come mai Ha le mani completamente rovinate Come se si fosse difeso Mi mancava un dente Mancava un via del piede Tutte queste cose Il giorno che l'hanno ritrovato Non sono state cercate È stato cercato Il modo più veloce Di portarlo fuori dall'isola Gianmarco dopo due ore e mezza Era già dentro a un sacco Imbarcato verso il traghetto per Formia Se non fosse stato ritrovato Questo No, no Lui appena è stato trovato Ah, Imbarcato Stai parlando Esatto Perché a me veniva in mente Un'altra cosa Se fosse stato messo lì Poi magari L'intenzione era farlo sparire Secondo me Quello era forse L'intento iniziale Diciamo brutto termine Ma la vita È una vita parcheggiato lì È un posto Che se questi personaggi O abitanti di Ponza Dicono che non è frequentato Cioè loro non frequentano L'abbiamo vista poi L'intercapedine Come è particolare Esatto Quindi Questo mi è venuto in mente Ecco Avvocato nel salutarla Perché Intanto la posso salutare Visto che stiamo andando Verso le conclusioni Poi resto con Paolo e Martina Per altri 5-6 minuti A proposito Abbiamo detto La procura di Cassino A lei non ho chiesto Ma mi pare di capire Anche lei Ha diciamo Sensazioni positive Sul comportamento Di questo PM Che sta facendo sul serio Diciamo Sì sì Assolutamente sì Siamo molto contenti Abbiamo un dialogo Continuo e costante Con il pubblico ministero Al quale abbiamo rappresentato Ogni volta Tramite memorio Andando a parlarci fisicamente Tutte quelle che sono I nostri dubbi Tutto ciò che Abbiamo raccolto Tutto ciò che ci viene detto Noi abbiamo Un costante E continuo Contatto con il pubblico ministero Di cui Continuiamo ad avere Piene ad assoluta fiducia E aggiungo Le chiedo Ho confermato Che per ora Non ci sono indagati No? O meglio Forse Queste cose Non si sanno In realtà Se ci sono Non si dovrebbero sapere Giusto? Noi non possiamo Saperlo Non veniamo Non veniamo Interpellati O notiziati Di questo Ecco invece gli esami Potrebbero farli I ris I carabinieri del ris Carriola E il resto E sempre scelta del pubblico ministero Decide il pubblico ministero A chi affidarsi Altri sono stati Sono stati fatti da Altro Ozzicone di sigaretta Potrebbero contenere Comunque del dna Quindi auguriamoci che da qua Da quelli Si possa arrivare Ad una svolta Grazie all'avvocato Marco Malara Per essere stato con noi Grazie a voi E un grazie anche all'avvocato Fabrizio Gallo Che è impegnato Non è potuto intervenire Abbiamo pochi minuti Ecco Sento Paolo Su questo Leggo proprio Le dichiarazioni Dell'avvocato Gallo L'inchiesta Fino ad oggi Ha proceduto A singhiozzo Ora ci auguriamo In un cambio Di passo Ci aspettiamo L'esito degli esami In pochi giorni A me ricorda molto Questa vicenda Paolo D'altronde Trattando questi casi Un po' La vicenda Di Serena Mollicone Quindi siamo sempre Più o meno Poi se ne sta occupando La procura di Cassino Il giallo di Arce Ricordo Peraltro bene Che siete molto amici Anche con Maria Tuzzi Del Santino Tuzzi Avete fatto anche Delle manifestazioni Insieme Ci hanno invitato Siamo stati felicissimi Di partecipare E poi lì C'è stato un primo grado C'è stata La soluzione Ora però ci sarà Adesso ad ottobre Il 23 ottobre C'è un appello C'è l'appello Preparantissimo Paolo Anche su questi altri casi Sei d'accordo con me Che ci sono un po' Delle analogie Visto che comunque Sembra anche diminuito Lo spaccio Sull'isola Si è un po' Migliorata la cosa Rispetto a prima Così come disse Il padre Guglielmo Il papà di Serena Mollicone Disse che dopo L'omicidio di Serena La situazione ad Arce Era cambiata Prima era la terza Piazza di spaccio Adesso Quando arrivi Ci stanno Subito L'unità cinofere Dalla guardia di finanza Per cui La vedo dura Per portare le cose A chi può Fortare Potrebbe essere Quello Un segnale Il sacrificio di Jimmy Eh lo so Però Però cerchiamo di capire Chi è stato No? Questa è Quella è la cosa primaria Perché Fino ad oggi Abbiamo avuto Diciamo Molti anni Tre Quasi A disposizione Per cercare di capire Si è capito subito Però Prima incidente Suicidio Ah ultima cosa Per Paolo Perché hai lasciato Sempre quel 5% Del suicidio Perché forse Poteva essere deviato Perché quando stiamo a casa Io e mia moglie Sembra che viviamo un film Capito Cioè È un film È un film Stiamo vivendo un film È questo sì Allora sai Non avendo esperienze Cose varie Le pensi tutte Capito Quindi hai lasciato Questo 5% Si ma Ma Si è azzerato adesso però Me lo devo spiegare Benissimo Quel 5% Proprio Ora non c'è più No non c'è più Non c'è più Dopo il ritrovamento Dalla Carriola Non c'è più Perché ho cercato Per Mari e Monti Qua Carriola Poi È quella Non è quella Non lo so Ma io stavo Talmente in loop Perché se la trovo A 3 km di distanza Per me era la Carriola E trovarla su quel campo C'è un significato Martina non ha mai avuto dubbi E te non l'ha mai sfiorato No Poi l'avevi sentito Ma mio fratello Aveva una voglia di vivere Non aveva motivi Per farlo Perché comunque Siamo una famiglia Molto unita Quindi qualsiasi problema Sarebbe arrivato Comunque Non sarebbe mai Lato lasciato solo Gianmarco E poi non aveva Proprio intenzione Io l'ho sentito La sera prima Quindi ho questa persona Alla sera prima Non la sera stessa Ho capito male Parliamo della sera stessa L'otto sera all'una Quindi era già il nove notte Ecco così ricordiamo Gianmarco era Gianmarco di sempre Io il mostro che ha raccontato Alessio Non l'ho mai ritrovato Parlava Mi ha chiesto delle mie figlie Quindi una persona non equilibrata Non lucida Non è così Ma quando siamo andati a Ponza L'anno scorso Che abbiamo fatto L'anniversario della morte Si è avvicinato un papà Con dei bambini Ma di più vi do dire una cosa La sera che poi Gianmarco è venuto a mancare La mattina dopo È stato ritrovato Cioè ai miei figli Gli ha regalato Quei bastoncini colorati Che diventano luminosi la notte Che si mettono ai concerti Dice Gli l'ha regalati tu a mio figlio Ma ha detto Quindi io ti posso dire Che fino a che l'ho visto Della mezzanotte e mezza Non dava Almeno a me Non è sembrato Quello che viene raccontato E ripeto Sempre e solo Dalle persone della stanza Perché tutto il mondo fuori Si scrive Gianmarco In un altro modo Abbiamo un altro messaggio Che mi girano Però non è firmato Buonasera Ma gli assassini di Jimmy Sono lì a Ponza Con tutte le ferite Che aveva Di certo Non l'hanno picchiato Fuori casa Poi incosciente Riportato a casa Sta completando Mi dicono Però è soltanto Una prima parte Tanto tra poco Ne parliamo Con i nostri opinionisti Michel Maritato Che l'altra volta Sollevò Questa ipotesi Di rituali O di messaggi Della criminalità A proposito Di quello che è stato ritrovato Negli slip Di Gianmarco Pozzi Ne parliamo anche Con la psicoterapeuta E criminologa Barbara Fabroni Grazie a Paolo Pozzi E Martina Pozzi Per essere stati con noi E soprattutto Grazie a Paolo Per quel bel reportaggio Che ha fatto insieme Ha aiutato La nostra inviata Aurora Vena Chissà parli Inquadriamo la maglietta Di Paolo Quell'hashtag Che facciamo nostro Chissà parli Giustizia per Jimmy Il nostro numero Lo conoscete Qualsiasi segnalazione Siamo qui A disposizione Per fare giustizia Per regalare verità A questa famiglia Che soffre dal 9 agosto Del 2020 Restate con noi Torniamo tra poco Per la lente di ingrandimento Andremo alle conclusioni A tra poco E ben ritrovati Da Fabio Camillacci A Giallo d'Estate Con la regia Di Lorenzo Rocchi Adesso andiamo ad aprire Una sorta di osservatorio Criminologico Che abbiamo ribattezzato Per questa trasmissione Nella stagione estiva Di Cusano Italia TV Lente di ingrandimento E la nostra lente di ingrandimento Ovviamente va Su quello che È il tema portante Di questa puntata Ne abbiamo parlato Il giallo di Ponza La morte di Gianmarco Pozzi Il 9 agosto del 2020 Questa morte misteriosa Inizialmente Si era parlato di suicidio L'incidente appunto Che il ragazzo magari Era precipitato In quella intercapedine Dove è stato ritrovato Morto Ma tutti gli elementi Ora convergono Sull'ipotesi omicidio E ci sta lavorando La procura di Cassino Sono debitore Di un ascoltatore Un telespettatore O telespettatrice Perché non si è firmato Ha mandato questo messaggio In due parti Mi ha segnalato La redazione La prima parte È questa Gli assassini Di Jimmy Sono lì a Ponza Con tutte le ferite Che aveva Di certo Non l'hanno picchiato Fuori casa E poi Riportato a casa E poi vogliamo parlare Di chi ha visto E sentito Tre case Ci sono lì Nell'intercapedine Quindi era facile capire Che avesse visto Insomma mi fa capire Che tutto lascia pensare Appunto A un omicidio E che L'omertà L'ha fatta Da padrone Però ricordo sempre I nostri telespettatori Di firmarvi E soprattutto Da dove ci seguite Abbiamo avuto un messaggio Dalla Sardegna Da Viviana Che ci ha scritto Da Alghero Un altro messaggio Da Roma Ricordo che il canale 264 Trasmette in tutta Italia Sul digitale terrestre E la nostra lente Di ingrandimento Diciamo che è composta Proprio da due elementi Fondamentali Del nostro osservatorio Criminologico A partire dalla dottoressa Barbara Fabroni Buonasera E ben ritrovata Grazie Buonasera Fabio Grazie Da crimine Criminologia Giallo d'estate Psicoterapeuta Giornalista E da poco Anche criminologa Invece criminologo Da tempo Così come giornalista Lo è Michel Maritato Che è anche presidente Di Asso Tutela Buonasera Michel Buonasera Buonasera Fabio Buonasera a tutti voi Buonasera Ascolto a voi Parto da te Michel Perché Hai preso molto a cuore Questo caso L'ho visto anche Da come poi Eh I tuoi Manager Social O te stesso Comunque l'hanno trattata Questa vicenda A proposito anche di Chi cura i social Di Asso Tutela E poi soprattutto Paolo Pozzi Il papà di Gianmarco Che era qui in studio Fino a poco fa Ti ricordava Quello che tu dicesti La volta scorsa A proposito del Ritrovamento Negli slip Di Jimmy Di tante cose strane Una busta Mozziconi Di sigaretta Eh Bustine Che in genere Si usano per Eh Così proprio Poi andare a Metterci la cocaina A venderla Quindi fare le dosi Ecco Tu la volta scorsa Era febbraio Parlasti Di veri e propri Riti O segnali O messaggi No? Che la criminalità Lancia In questo modo Beh si Fabio La criminalità Intanto Un abbraccio Veramente Forte A papà E alla sorella Di Jimmy Che ha avuto modo Anche in questi giorni Di approfondire Insomma personalmente Peraltro Ho scoperto Parlando con loro Di frequentare Delle stesse amicizie Quindi non escludo Di aver conosciuto Jimmy In alcune occasioni Magari E Peraltro Sono molto amici Della famiglia Mollicone Della famiglia Tuzzi Hanno fatto Delle manifestazioni Insieme Lo hanno confermato Quindi anche In quell'ambito Evidentemente Comunque c'è Una comunanza C'è anche Ci sono anche Molti punti in comune Tra il caso di Arce E questo di Ponza Prego Mi scelgo Io vi ho invitato Il 12 Alla presentazione Del libro Di Antomoro In senato Perché li volevo Presentare Ad Antonietta Gregori Che è la sorella Di Mirella Gregori Per l'associazione Sugli scomparsi In maniera che possono Veramente aiutarsi Un l'un l'altro Facendosi forza Perché ricordiamo Fabio Che a parte noi Criminologi e giornalisti Che seguiamo Queste famiglie Da tempo Non ricevono Nessun tipo di aiuto Purtroppo E loro sono ancora Lì a dover Sapere che cosa Aspettare Se piangere Una vittima O se riaspettare Il proprio caro Che suona la porta Ecco Questo penso sia Un dolore pazzesco Che nessun Essere umano Deba provare Perché non avere Seppur una giustizia Minima terrena Perché nulla Riporterà in vita Il proprio caro Non avere neanche quella Vuol dire veramente Non essere figli Di uno Stato Che ci tutela Ecco Uno Stato giusto Deve tutelare Il più debole Dell'occasione E non lo sta facendo E noi qui Ce ne doliamo il cuore Perché dobbiamo In qualche modo Sopperire Dove c'è la mancassa Dello Stato E lo facciamo Tramite le nostre professioni E professionalità Come quella del criminologo Del giornalista Della cronaca giudiziaria Del criminologo d'inchiesta Del giornalista d'inchiesta Delle associazioni E dei tanti volontari Fabio Che girano nel nostro mondo Che tu sai benissimo Ecco Per quanto riguarda Lo Stato Deve adesso Dare una verità E una risposta A questa famiglia Ma come hanno detto loro Lo Stato Rappresentato Da chi Portò avanti Le prime indagini Pare che tutto Il proprio dovere Non lo abbia fatto Fino in fondo E questo è molto grave E secondo la famiglia Addirittura Ci furono anche Dei depistaggi A conferma Ecco perché ho fatto Un parallelo con Arce In tal senso Perché purtroppo A volte succede anche questo Ma guarda Fabio Io nell'espedamento Della mia professione Ho avuto modo di parlare Con tanti personaggi Del mondo Dei vari mondi Ok E ho avuto più che altro Anche frequentando Per altri Tirocini Tirocini Che ho fatto Per esempio Il carcere di Rebibbia O quant'altro E ho avuto più che altro Degli scambi Con alcuni delinquenti Abituali Di vedute Insomma Di Una sorta di inchieste Che facevo Per capire Determinati atteggiamenti Perché vengono Corrisposti Da parte di persone Che abitualmente Delinquono E in particolar modo Un paio di questi personaggi Un giorno mi dissero In un colloquio così Conoscitivo Mi dissero Sa Dottore Dice Lei forse non ha chiaro una cosa Perché E vantavano conoscenze importanti Di personaggi Di altissimo livello E ho detto Scusa ma Tu come fai A conoscere queste persone E non hai Una grandissima cultura Insomma Non sei addentrato In certi mondi Non fai una professione Che ti porta a conoscermi Le persone E entrambi mi risposero Vedi dottore Tu non sai Che la droga Apre molte porte Ecco In questa parola In questa parola Che è una parola importante Noi dobbiamo scorgere Il significato Che è ancora più importante Vuol dire che loro Nella loro attività In legge Di spargere Istituto facenti Hanno conosciuto Avevano come clienti Determinati personaggi Che magari per noi Sono personaggi Di tutto rispetto Sono personaggi Della grande cultura Della grande Del grande schermo Del piccolo schermo Insomma Personaggi che possono In qualche modo Influire nella nostra vita E che invece Magari fanno delle cose Che non dovrebbero fare Ecco Questo perché Ti dico questo Perché magari Chi ha voluto Se l'ha voluto Morto Jimmy Probabilmente Tramite determinate situazioni Si è riusciti A depistare A non fare Ciò che si voleva fare Semplicemente Perché dietro A determinate situazioni C'è un interesse personale Di qualcuno Nel voler Nascondere Nel voler Depistare E i messaggi Che sono stati lanciati Negli slip Di questo ragazzo Che peraltro Faceva il pugile Quindi Voglio dire Non è neanche gestibile Non è neanche gestibile Facilmente Per ucciderlo Quindi se avessero In qualche modo Tentato di ucciderlo Sicuramente Non l'hanno ucciso In maniera Frontale Magari l'hanno stordito Con delle droghe Con qualcosa Perché non credo Che Non è più di una persona Perché lui Ecco lo vediamo Kickboxing Era campione Di questo sport Quindi Sicuramente Ma Ma soprattutto Anche in due o tre Uno dei tre Sicuramente Ci avrebbe rimesso Tantissimo Perché Chiaramente Stanno a che fare Con un atleta Che Si sa difendere Non lo fa Dipitato Di Diciamo Un suo status Particolare Lo hanno portato A uno stordimento O semi stordimento E poi Ecco Esattamente Quindi quello che ti volevo dire Fabio È che la criminalità organizzata Lancia dei segnali E parla Anche durante i processi Per parole Non dette Con la mimica Con dei messaggi subliminali E soprattutto Con Eh Delle frasi E Dei segnali Che Vengono lasciati Quasi per caso Ma che nel gergo Della criminalità Vogliono dire molto Ecco Lasciare Dei mozziconi di sigarette Negli slip Ha un significato Importante Che potrebbe essere Identificato Come Il significato Del Parola Delle cose Non dette Cioè Probabilmente Lui potrebbe aver visto Qualcosa Del quale Non ha riferito A chi di dovere E questo Chi di dovere Potrebbe essersi Eh Se la potrebbe essere presa Ecco Noi su questo Potremmo puntare O non potremmo puntare Questo purtroppo È a discrezione Degli inquirenti Però chiaramente Bisogna nominare Dei tecnici Bisogna far Nominare Dei 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 periti Che sappiano Interpretare Il linguaggio Della criminalità Organizzata Il linguaggio Non verbale E questo È molto difficile Tantissimi casi Si potrebbero risolvere Nominando Dei periti Che sappiano interpretare Il linguaggio Non verbale O paraverbale E vediamo Il parere PM Stia lavorando bene Magari ci sta pensando No? A questa Questa pista Diciamo Perché è chiaro Io il PM Ho avuto modo Di Conoscerlo Per altri motivi E devo dire Che è un Conosci anche tu Il PM Che sta lavorando Della procura di Cassino Non per questo Caso Per un'altra Storia Quindi confermi Quello che ti hanno detto Paolo e Martina Esatto Non l'ho conosciuto Tramite loro Ma l'ho conosciuto Per quanto riguarda Un altro caso Che non era un caso Di cronaca nera Ma un caso Che ho seguito Giornalisticamente E devo dire Che è una persona Molto preparata Quindi sono sicuro Che farà del meglio Sono sicuro Che non darà Nulla per scontato Quindi me lo auguro Veramente con il cuore Perché ci sono tutte Le carte regola Per poter dare giustizia E importanti Che da una prima indagine Erano veramente Stati travolti Dalla fretta E dalla furia Di risolvere il caso Archiviandolo Così come un caso Di suicidio Senza tanto significato Ma quello che emerge Sostanzialmente E l'abbiamo potuto vedere In queste due ore Di trasmissione È la forza Della famiglia La capacità Della famiglia Di non arrendersi Di fronte A comunque Delle risposte Che non c'erano E che assolutamente Davano il caso Così terminato Tant'è come Ha detto anche La sorella Martina In pochissimo tempo È stato messo Dentro a un sacco Imbarcato Per riportarlo In terraferma Come quasi a liberarsi Da queste ingombre Incredibile E salvare quest'isola Che era nel pieno Della stagione Estiva Per cui Un omicidio Un presunto omicidio Poteva comunque Creare subbuglio All'interno Di questo Momento Di divertimento L'aspetto significativo È che questo Accade in tantissimi Casi di crimine Che comunque Vengono trattati Nelle sue trasmissioni Fabio È che comunque Se dietro Non c'è una famiglia Che non si arrende Non vuole assolutamente Stare all'interno Di quel pacchetto Preconfezionato Che spesso Gli inquirenti Danno Per incuria A volte Oppure Chissà per quale strano Motivo Non si arriva Mai alla verità Forse adesso La strada Che stanno percorrendo È una strada Positiva Tra l'altro Il padre Ha ritrovato Questa carriola Che sia questa O sia un'altra Ma comunque Lui si è messo in gioco E nel vostro reportage Tra l'altro Bellissimo In cui c'è stata Questa storia E questa storia Sia temporale Ma anche emotiva Perché comunque C'era il racconto Di questo ragazzo Che sicuramente Si intreccia molto male Con quello Che è stato dipinto No? Poi E l'altro aspetto Che emerge Forte e denso Di significato È questo Merta Come quasi A non volersi Mettere in gioco Tant'è che La persona Che ha detto Della carriola È una persona Che è voluta Rimanere In anonimato Io mi auguro Che attraverso Il PM Attraverso Tutto quello Che è emerso Veramente Si giunga La verità Perché credo Che sia assolutamente Importante Non soltanto Per la memoria Di questo ragazzo Che sicuramente Al di là Dell'errore Che può aver fatto Se poteva fare uso Di cocaina In quel periodo Però comunque Ricordiamoci sempre Che era uno sportivo E chi fa lo sport A quel livello È estremamente Controllato Ma soprattutto È uno sport Fisico Importante Il fisico Deve essere assolutamente Integro Per cui molto probabilmente Deve essere stato O l'errore Di una sera Oppure come diceva Il dottor Maritato Forse è stato drogato Perché doveva Dovevano fare altro E dovevano comunque Eliminare Questa persona Che poteva essere Una persona Comunque Di difficile gestione E per cui Ecco La strada tracciata Sembra una strada Che possa portare Finalmente A una soluzione Ma una soluzione vera Quindi a trovare La motivazione Per cui Questo giovane ragazzo È stato trovato In queste intercapedine Che come dicevate voi Sembra più portata Che comunque Lasciato lì Tant'è che comunque Si aggangiano Varie situazioni Per cui È una scena del crimine Quelle dove sono arrivati Gli inquirenti Sicuramente secondaria Ma non è stato fatto Quello che doveva essere fatto All'interno Sia dell'abitazione E in altri luoghi Quindi è rimasto tutto Abbastanza sospeso Ecco Intanto Visto che stiamo andando Verso La parte finale Di questa prima puntata Di Giallo d'Estate Vorrei Tornare Al passato Anche se Siamo tornati Al 9 agosto Del 2020 Però Sono recenti Dei sviluppi Come il ritrovamento Della Carriola Sul Giallo Di Ponza In questo spazio Di lente di ingrandimento Volevo tornare Sull'omicidio Di Primavalle Quindi L'uccisione Di Michel Causo Perché poi Dedicheremo Una puntata Di Giallo d'Estate A queste ragazze Uccise Alcune di loro Fatte a pezzi Come ad esempio Pamela Mastropietro Oppure Ce ne sono stati Altri di casi Ecco Dedicheremo Una puntata A queste ragazze Uccise E allora Torniamo un attimo A Michel Causo Volevo farvi Ascoltare Quelle Che sono state Le dichiarazioni Della mamma Che peraltro Ha anche detto A proposito Di quando Noi evidenziamo Degli aspetti Che diciamo I genitori Devono controllare Un po' di più I figli Starli sopra Starli dietro Non farli muovere Troppo Per evitare Che incappino In errori O in trappole Ecco La mamma invece Ha fatto delle dichiarazioni Molto semplici Come a dire Aveva 17 anni Ma quanto La dovevo Controllare La vogliamo sentire Ecco La mamma Di Michel Causo Vediamo Che c'era Tutta l'estate Davanti Come tutti i ragazzi E le ha detto Che cosa avrebbe fatto Quella mattina No no Ma io Ma mia figlia Era sempre In zona Vicino casa I figli Devono vivere Devono vivere Lei con me Aveva la piena Libertà di parola Si fidava di lei Mia figlia Mi diceva tutto Mi diceva tutto Mia figlia Io sapevo Tutto di mia figlia Sì c'è Barbara Di Palma Ecco Restiamo Sull'omicidio Di Prima Valle Le parole Della mamma Di Michel Causo Dottoressa Fabroni Come le giudichiamo Queste parole E' chiaro Che poi Quello che è successo Poteva anche Controllarla La figlia Magari sarebbe successo Lo stesso Però l'ha detto Lei stessa Mia figlia Mi diceva tutto Però a un certo punto Bisogna anche Lasciarli stare Questi ragazzi Lei è d'accordo? Allora io credo Che un genitore Deve sì Lasciare il figlio Sperimentare La propria vita Ma comunque Deve essere sempre Un osservatore attento Sicuramente la ragazza Raccontava tutto Alla madre Però a quanto Sta emergendo C'era un lato Che comunque La madre non andava Non raccontava Per cui E' normale Comunque che da parte Di un genitore Ci sia La massima La fiducia Verso il figlio Soprattutto se poi C'è una modalità Comunicativa Che sembra Soddisfacente E soprattutto Autentica Ma sostanzialmente Io tante volte Dico ok Sì Però Un occhio in più Un momento in più Ma non per Voglio dire Non aver fiducia Nel figlio Ma purtroppo Noi siamo inseriti All'interno di una società Molto particolare Che oltre a quello Che viviamo nel mondo Della vita C'è anche Come ci siamo detti Tante volte Un mondo virtuale Che è un mondo Estremamente pericoloso E particolare In cui Lì si possono Concatenare Soprattutto a 17 anni Che è un'età Estremamente particolare Ancora Perché stanno Uscendo dall'adolescenza Si stanno Identificando Come persone Chiaramente Che si avviano Alla prima età adulta Quindi Il tutto Può veramente A volte sfuggire Di mano In brevissimo tempo E da quello Che sta emergendo Pare che Questa ragazza Che Michelle Abbia comunque Come dire Un sottofondo Non così Estremamente Diciamo Come dire Trasparente Soprattutto anche Nei confronti Della mamma Le varie cose Che sono emerse Poi è chiaro Questi sono soltanto Punti di vista Che stanno emergendo Io dico sempre Che un genitore È chiaro Che non può fare Il genitore Con il fucile Puntato addosso Verso il figlio E fargli L'interrogazione Del terzo grado Però è anche vero Che si possono avere Se il genitore Estremamente attento Delle informazioni Che comunque Possono far scattare Quel campanellino D'allarme E avere comunque La capacità Anche di cogliere Le sfumature Che restano in ombra Io credo Che questo sia Estremamente importante Poi è anche vero Che le variabili Sono infinite E la vita A volte Ti porta in deviatici Che è impossibile Tornare indietro Come purtroppo È successo A questa ragazzina Ecco Ha ragione È importante Lo dico da genitore Cercare Di dare fiducia Al proprio figlio Ma Nello stesso tempo Di Trasmettere Fiducia A farti dire Tutto O quasi Tutto Nel senso Anche Diciamo Evitando di demonizzare Se fa qualcosa Di sbagliato Però Bene che si sappia Perché poi Appunto Si può In qualche modo La questione risolvere E intervenire Ripeto Lo dico da Da genitore Voglio Invece Adesso Far ascoltare le parole Del sindaco di Roma Gualtieri Roberto Gualtieri A proposito di quella Che poi è stata L'avete vista Nella grande partecipazione Della gente di Prima Valle Roma Tante manifestazioni Fiaccolate Anche se poi Purtroppo Come tante cose Come la vita Che va velocissima E a volte Anche le notizie di cronaca Vengono facilmente superate Ci si dimentica Facilmente Di certi casi Ecco perché noi Dedicheremo una puntata Anche a Pamela Mastropietro A Desiree Perché poi Tante ragazze Che hanno fatto Una fine orribile Sono ancora oggi Dimenticate Dall'opinione pubblica In Italia Si fa presto A dimenticare Questo è un vizio Tutto italico Ci si dimentica Facilmente Allora Sentiamo le parole Del sindaco Qualtieri E poi commentiamo Con Michelle La fiaccolata Ha portato La vicinanza Ai familiari Agli amici Ai compagni Di scuola Di Michelle Di tutta la città Che è unita Intorno A delle persone Che ricordano Una ragazza straordinaria Ci hanno parlato Del suo sorriso Della sua gioia Di vivere È davvero Terribile Quello che è accaduto E però Ci interroga tutti Di essere uniti Di perseguire La giustizia Di condannare La violenza Di aiutare Sostenere le donne Rispetto a un fenomeno Di violenza Contro le donne Che è Terribilmente In crescita E di aiutare I giovani Che soffrono Un momento Di forte difficoltà E hanno bisogno Di essere equitati E sostenuti A partire dalla scuola Ma con una unità Di tutti E di tutte le istituzioni Che è quella Che noi abbiamo Voluto portare qui Siamo quasi al termine Di questa puntata È volato il tempo Insieme a voi Si vedeva anche Il microfono Di Tag24.it Prima abbiamo visto Come Tag24.it La sezione cronaca Ha trattato Il caso di Jimmy Di Gianmarco Pozzi Abbiamo poco tempo Michelle Non tanto sul sindaco Perché altrimenti Mi va in tegel E ci querelano subito Però Quello che ti voglio chiedere È il discorso Che facevamo prima Con la Fabbroni È vero Quello che dicevo io Bisogna trasmettere fiducia Anche noi Ai ragazzi Per farci dire tutto Ma Fabio Sicuramente È così Sicuramente Questo voglio dire Non spaventarli Non spaventarli Non demonizzare Se fanno qualche errore Sicuramente Non dargli Quel peso Della colpa Anche Quando ce l'hanno Perché sono ancora Comunque piccoli I giovani Devono avere esperienza Chiaramente Però Il nostro compito È quello di Essere e fungere Da lente di ingrandimento Dove i loro occhi Non arrivano Da orecchie più grandi Dove le loro orecchie Non arrivano E da esperienza Dove il loro io Non arriva E quindi Chiaramente Per essere questo Dobbiamo trasformarci Non in genitori Ma nei migliori amici Noi dobbiamo essere I loro amici Dobbiamo essere I loro compagni di vita Non dobbiamo essere Coloro che li censurano Quindi Per essere questo Dobbiamo instaurare Un rapporto di serenità Di sensibilità Non reciproca Non ci scordiamo Che oggi Tutto quello che accade Nella società L'odio razziale L'odio contro le donne La misoginia L'odio contro chiunque Tutto questo Il gradimento Qualsiasi cosa Possa nascere Nasce Tutta questa società Esibizionista Come giustamente Diceva La dottoressa Fabroni Che vive una vita Sui social A mostrare Tutta la ricchezza Inesistente Magari di qualcuno Voi fateci caso Sui social Si mostrano solo La ricchezza Non si mostra La povertà Si mostra solo La bellezza Non si mostra La bruttezza Si mostra solo La grande cultura Non si mostra L'ignoranza Si mostra solo Il bello Il brutto Non ce l'ha Quindi ecco Tutto questo Ci porta A scendere A dei compromessi Per poter ottenere Magari Quegli consensi Che noi nella vita Reale non abbiamo Sui social Ecco tutto questo Nasce Con l'avvento Dei social E è nata La fine Della società civile Grazie A Michel Maritato Ci rivediamo Presto Con Giallo D'Estate Buonanotte Grazie a te Fabio Buonanotte Buonanotte Grazie E ci rivediamo A Giallo D'Estate Anche con la dottoressa Barbara Fabbroni Buonanotte Grazie E grazie A Lorenzo Rocchi Che ha curato La regia Adesso la linea Va alla regia Centrale Ad Alessio Tancorra Grazie Ad Aurora Vena Per il reportage A Ponza Il montaggio Di Claudia Di Fonzo E grazie Soprattutto a tutti voi Per la cortesa Attenzione A tutti coloro Che ci hanno scritto Siete stati Veramente Tanti Buon proseguimento Con i programmi Di Cusano Italia TV Ci rivediamo Domenica prossima Per un'altra ricca Grande puntata Di Giallo D'Estate Buonanotte Domenica prossima